Cucchi, la Juventus lotta per un posto in Champions League. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Intervistato da Gol di Tacco a Spillo, Riccardo Cucchi ha risposto a una domanda sulla Juventus come possibile candidato alla Champions League, assolutamente. Tra l'altro dobbiamo ancora attendere la sentenza sulla penalizzazione che è stata inflitta alla squadra bianconera perché, se il primo verdetto dovesse essere ribaltato, la Juventus secondo la classifica attuale sarebbe seconda. È sicuramente in corsa e penso anche che la prestazione in campo nell'ultimo periodo sia stata una grande prestazione, di carattere, di temperamento. La risposta dei giocatori bianconeri agli eventi fuori campo è stata molto importante quindi, al di là di quanto accadrà nella giustizia sportiva, la Juventus si sta riprendendo. Mancano ancora molti giorni alla fine della stagione e non si dice che se la Juventus continuerà a giocare, anche con il rigore, come sta facendo, non potrà raggiungere la classifica europea.